Concentrare tutta una serie di impegni dedicati alla ricerca di una casa, tutti nella stessa giornata. Un'intera giornata a fare le visite. Quali sono i rischi che si potrebbero correre operando in questo modo? Il rischio principale che si corre è quello di fare una gran confusione. Sono giornate molto intense. Sono giornate durante le quali si raccolgono una marea di informazioni. Non ci si può permettere di fare confusione tra le informazioni. Ciò che si ottiene solitamente da queste giornate, una volta terminato di fare i sepolcri, è tornare a casa con la testa invasa dalla miriade di informazioni che si è ottenuto. Ecco così che si inizia a confondere le informazioni ottenute per una casa attribuendole ad un'altra. Ma l'aspetto più importante che si tende a dimenticare sono le prime impressioni avute ogni qualvolta si è arrivato a un appuntamento di visita. Sono molto importanti. Sono talmente importanti da non poter essere assolutamente né dimenticate né ignorate. Ma come avviare a tutto ciò? Dedicandoti del tempo. Un tempo utile per riordinare le idee prima di ogni appuntamento e tra un appuntamento di visita e l'altro. Prendendo l'abitudine di arrivare in largo anticipo, ci si inizia a guardare intorno, ci si rende conto delle prime impressioni che si hanno, si effettua così la visita e ci si ritaglia di nuovo del tempo per riordinare le idee. È molto importante questo aspetto e non sottovalutarlo. Non solo perché così facendo eviterai di fare una gran confusione, ma perché così facendo eviterai di perdere tempo. Perché è una questione di metodo. Ci vediamo dall'altra parte.